Giudizio estremamente negativo di Italia Nostra e WWF sulla richiesta avanzata dal commissario del Consorzio Piombafino riguardante l'avvio della procedura per l'autorizzazione dell'ampliamento della discarica di Contrada Santa Lucia ad Atri. È inaccettabile, si legge in una nota, far crescere a dismisura una discarica che si trova a poche centinaia di metri da un sito di interesse comunitario istituito dall'Unione Europea, su richiesta dalla Regione Abruzzo, per le straordinarie valenze naturalistiche e paesaggistiche, al cui interno è ricompresa una riserva naturale regionale. Ed è ancora più inaccettabile se si considera che i precedenti moduli della discarica ancora oggi, a distanza di anni dalla loro chiusura, presentano numerosi problemi ambientali e sanitari che sono stati evidenziati dalla stessa Regione Abruzzo, da ultimo in una nota del Servizio regionale Gestione dei Rifiuti in risposta alla locale sezione di Italia Nostra. È estremamente grave che si registrino ancora problemi di questo genere se si considera che per giustificare il precedente ampliamento della discarica fu affermato dai proponenti che le ulteriori entrate derivanti dal conferimento dei rifiuti nel secondo modulo sarebbero state utilizzate a mettere in totale sicurezza il vecchio sito, il raggiungimento dei limiti di conferimento che oggi viene utilizzato per giustificare il terzo modulo e poi conseguenza del fatto che contrariamente a quanto annunciato al momento del secondo ampliamento la discarica di Contrada a Santa Lucia non è stata utilizzata per i rifiuti provenienti dai comuni consorziati ma addirittura per collocare rifiuti provenienti da fuori Regione. Da ultimo non si può fare a meno di notare che un consorzio commissariato che si sarebbe dovuto sciogliere da anni per confluire in un ente di gestione unico regionale o al più in uno provinciale non si stia attenendo alla sola ordinaria amministrazione ma continua a ingessare il territorio con scelte che avranno conseguenze per molti anni a venire. Italia Nostra e WWF chiedono dunque che si apra un confronto sulla gestione delle discariche esistenti e sulle scelte per il futuro evitando di procedere attraverso forzature nei confronti di un territorio che da decenni ha svolto responsabilmente un ruolo determinante per il ciclo dei rifiuti di tutta la provincia e che ora merita di essere rispettato ed ascoltato.